E' Sion True Silver, Sion True Silver coming for you, con gameplay, storie e review, la noia non c'è più, dai tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Sion True Silver, dunque cosa faremo in questo episodio? Molto semplice, andremo ad usare l'indizio che abbiamo scoperto alla fine dell'altro episodio con Venus, vediamo se possiamo usarlo con lei, qua no, riguardo la tua situazione economica. E ora questa cosa non ci ha portato praticamente a nulla, però se un lato abbiamo scoperto qualcosa in più. Allora, torniamo di sopra ragazzi. Perché? Qua c'è una porta, no? Che ci fa uscire sul tetto, e là c'è un teletrasporto ragazzi. E guardate com'è vicina la casa di Annie. No, io non voglio pensare che Charlotte abbia fatto una cosa così schifosa alla sua amica Emily. Allora, calendario, no, ok. Lascia di Sonic e va fuori. Quindi vi ricordo che stiamo facendo l'indagine di Emily. Il sangue va di qua o va di là? Segui di qui. Qual è la povera Emily, ragazzi? Che abbiamo qui? Chi è? Qui ci lo faccio? Che ci sono? Posso di domanda la stessa domanda. Sono Marquis de Bois-Colombi. E mi chiede molto di farvivi a trovare vostre loro gioco, signor. Non mi sono qui per mantenerevole. Adesso investigo la morte di un'lla per una nonna, che morta da un vampiro. Un''lla per una nonna? Oh, ho, 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 ho! Hai giocato, certo? Oh, ho, 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 ho. E' francese. Cugino, siamo imparentati per caso? Cosa ci farei qui? Tra il piacere della sofferenza è tu? Qua è il suo piano, qua? Cosa hai planato di fare qui? Prendi il piacere? Prendi le foto? Genrevi il show! Ha divertito! Credo me, non sarò l'unico mortale fornito che ha comprato un ticket all'affair! Ho seguito i tracci di sangue. Ho seguito il traccio di sangue dal suo quarto, per qui. Oh, stai riferendo a quella nuova moglie? Sì, la notizia si è diventata messa. Sto scoperto che ho bruciato il mio ultimo reddito. Quindi accettate che l'hai matrimonato? Non accettate a nulla, signor. Sì, signor. Sì, non so. Sì, non so. Sì, non so. Sì, non so. Sì, la sua vita può essere così messa. Cosa è? Sì, non so. 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 Sì, la sua approccia è stata un'attività. E poi cosa? Sì, non so. 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 Sì, anche con la volontària. Almeno le mie gurglie mi ha divertito. Sì, fino a la la scuola si fu. La sua scuola è valore di scuola, signor. E cosa è nuovo? Sì, non so. Haaa. Il dorso. Ok, ricarichiamo, pensavo che ci potesse dare la sua spada, allora, dunque dovremmo spiegare la cosa a Charlotte come avete ben capito, ma al contempo faremo prima che tornare da Charlotte, anche se no, in teoria potremmo tornare indietro, tanto alla fine poi la strada è dritta per andare da, come si chiama, questa galleria dovrebbe riportarci piccoli Charlotte, chissà se abbiamo un nuovo dialogo con Clarence, adesso che abbiamo, sul check up medico va bene, domande personali, la situazione conosce, la gente ti riderà dietro, la gente ti riderà, se non ci sono già, pensi su la tua esposa e la tua posizione, pensi su il tuo futuro, comprendo la mia esposa, ma i gossips non matano, i vampiri li li li, non ci sarà futuro se le persone non abbracano le ozze, non credo che ci sto dicendo, ma se la sposa è così importante per te, perché non chiuscire un modo più efficace di spendere il tuo dinero? Non credo che ho provato? Ho chiuscito a tutte le porte, andato a tutte le banche, ho anche cercato di essere pubblicato! No, Jonathan, questo è una guerra di un uomo! Indietro. Riguardo ai volanti nei suoi vampiri. Clarence, Cosa è stato distribuito le fiello sui vampiri all'interno del sud del centro? Musco a le informare a tutti. Ci sono nulla di persone, senza lasciare grazie alla epidemia. Ci siamo tutti in danger qui! Vampiri? In Londra? Come, Clarence, chi si avrà che credere a questo? Non sono male, Jonathan, devi credere a me. Sì, che sono reali. Allora, beh, possiamo dire che credo perché ha fine ragione. Allora, nuove indizie disponibili. Allora, Florence ha visto un vampiro uccidere una vittima mentre era in servizio in Francia. Domande personali. L'attacco del vampiro. Non è mai più rivisto ufficiale? È rubriaco? Allora, non abbiamo più nessuna indagine da fargli, quindi andiamo. Allora, parliamo corretto? 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 Parliamo corretto? Allora, parliamo corretto? Allora, parliamo corretto? di nostro padre che è indietro, come vedete. Quelle dei ristoranti invece sono più varie. Potremmo andare a fare anche questa, già che ci siamo. Allora signori, dunque siamo qua, sempre nel quartiere ricco di Londra. So che dovevamo cercare l'oggetto, come stavo dicendo, per continuare la missione di Jonathan, ragazzi, mi ho girato veramente tantissimo e non ho trovato niente. Quindi ci troviamo qua, guardate dove siamo sulla mappa, ci siamo fermati un po' prima del parchetto e qui c'è una persona che ha bisogno di aiuto. Ecco qua, qua dentro. Quindi bussiamo, anzi possiamo entrare. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Taddao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Allora, check-up medico va bene, affascinazione potremmo anche affascinarla, ma noi gli diciamo arrivederci. Mi stia bene. L'eresia del sangue puro, un atto collezionabile. Sangue puro. Conosciamo questa espressione, l'abbiamo sentita pronunciare da bocche barbare ed eretiche e talvolta da noi stessi, ma sappiamo che significa realmente un vampiro nato da un ventre immortale che è idea rivoltante. Come potrebbe un simile creatore trovare il suo posto tra i vivi? Quale sarebbe il suo scopo? Il nostro è chiaro, signori. Ascalo è qui per proteggere l'impero e i suoi cittadini. Siamo protettori e pastori, anche le rare volte in cui sacrifichiamo pecore per sostentarci. Chiunque verrà riconosciuto, colpevo di averceluto il desiderio di procreare un figlio immortale e verrà eliminato. Ordini di Lord Redgrave, fondatore. Quindi, sì, la mia idea era giusta. Non si può avere un figlio da una donna vampira, sostanzialmente. Quindi, il signor Kimura l'abbiamo salvato. Ricordate che chiedeva aiuto, no? Ah, questo è il solito calendario. Qua fuori c'è un vampiro che abbiamo ucciso, di quelli un po' eleganti nel combattere, quelli di livello 30, anche un po' fortini, se dobbiamo dirla com'è. Quindi, muoviamoci e cerchiamo di raggiungere la casa della nostra amica Elisabeth. Allora, assolutamente no di qua, perché poi è chiusa la strada, intendo. Vediamo di qua. Idem, non di qua. Dobbiamo tornare giù, verso il quartiere. E poi tornare per di qua. Giustamente, il nostro obiettivo è trovare il diario di Doris Fletcher, il teatro, scusate, però, prima abbiamo un dialogo disponibile con la nostra amica Elisabeth. Allora, la strada è giusta, quindi ci siamo aperti lo shortcut, come vedete, e ci avviciniamo alla casa di Doris. Quindi ragazzi, prima ho perso veramente tantissimo tempo, non sapete quanto, e non sono riuscito a completare quella missione. Quindi, entriamo da Doris, e vediamo di utilizzare il tempo di registrazione in modo assolutamente più costruttivo, speriamo. L'altra missione, se non capisco come fare, la demando a voi, ragazzi. non è una run al 100%, per quanto io ci stia provando a fare un'esplorazione al 100% del gioco, ma come vedete in blind run, quello che sta avvenendo viene, ci stiamo prendendo come il gioco chiedeva all'inizio la responsabilità delle nostre azioni, e sebbene ho cercato di fare sempre il meglio, di fare una run buona, ma come vedete ha avuto delle conseguenze disastrose, in parecchie occasioni. Ora, proseguiamo. Appena entriamo da Rie di Ashbury, Rie è sempre a credenza di sopra. Salve Elizabeth. Allora, riguardo la sua indagine. Ho deciso di sviluppare di sopra, la sua indagine di sopra. Cosa significa? Potremmo trovare questo luogo aperto, quando mi visitate. Se così, è perché ho scoperto. Cosa intenzione sovvigliare? Chi ti dovrai sovvigliare? Ho spero che non si tratta di scoprire a McCullum, o la guarda di Priwan. Non. Ho chiesto di domande a domande in parti della città, quando tornerai, un nuovo tipo di scuola Riguardo ai tuoi dipinti Ci sono molti pittori che adorano le piste qui Sì? Hai pittorio? No, mio amico, ma alcune di loro Ho avuto molto tempo per sapere dei migliori Adesso lavoravo su quello che potrebbe essere il mio più grande pittorio Qual è questo pittorio? Tuoi portratti, mio amico Jonathan E' il mio dono a te, se non ho tempo per finirlo Hai mai conosciuto dei pittori fratelli? Hai mai conosciuto alcuni pittori? Stai cercando di divinare la mia agee per cercare i dati storici, mio amico? E' un trucco di parla Beh, Elizabeth, ho provato il mio meglio Non mi rispondo alcuni riconosciuti, almeno? Beh, se lo devi sapere Ho anche posato per i grandi Ora che lo conosci, potresti riconosceremi quando visitando i musei Buongiorno, mio amico Buongiorno, mio amico Beh, ma oramai la ship tra i due è abbastanza dichiarata Eh... io oserei dire, eh Questa qui rimane chiusa a chiave, questa Intanto possiamo continuare a ruotare qua Penso abbiamo preso un po' tutto qui, eh Quindi ragazzi, nuovo caricamento Usciamo da Villa Ashbury Oramai la ship è dichiaratissima qua, come abbiamo detto Sono oramai fidanzati i due, eh Poi lei sostanzialmente sarebbe una milf per lui Perché comunque è abbastanza anziana C'è giusto qualche secolo in più di lui, eh Però non penso che sia una cosa nell'amore vampirico che non si guardi Anzi, possa essere solo un... come possiamo dire Un privilegio avere un amante più adulta Che ha già morso tanti colli e... come si dice, ha esperienza Adesso stiamo divagando totalmente dall'ottica del gioco Comunque, ragazzi, ho rimandato abbastanza E' tempo di andare a scoprire questa... questa... questi eventi di Doris Fletcher Andare ad indagare al suo teatro Proviamo Mortar Questo è grosso, ragazzi Yeah, come? Come un Woidcord Come! apriamo sede di qua abbiamo ucciso con un morso ragazzi il teatro di Doris deve essere vicino sul livello ci siamo il livello della strada adesso come avete visto il nostro morso come fa male eh tre quarti di parete ok allora fatemi vedere ci stiamo allontanando e devo anche rimuovere per arrivare da Doris Fletcher potrebbe essere giusto andare di qua ecco qua questo deve essere il teatro ragazzi trovo un altro modo per entrare nel teatro dunque voi dite che sarà possibile girarci attorno al teatro a parte per un'impugnatura buona vedete che dobbiamo provare secondo me qua in questi vicoli c'è una possibilità dobbiamo solamente provarci no comunque ragazzi questa pistola è veramente un'arma eccezionale qui siamo sempre dietro al teatro quindi in qualche modo e ho qui e ho qui ultimo che abbiamo anche ritrovato i proietti ebbene si poteva passare facendo tutto il giro attorno come avete visto vai ed ecco qua pronti al caricamento signori molto probabilmente si e vediamo adesso che entriamo nel covo di Doris Fletcher cosa ci aspetta ecco in effetti c'è un aumento di caricamenti pazzesco rispetto alle prime zone del gioco proprio perché hanno istanziato tantissimo tante zone della della di questa parte non so se è finale certo il boss finale non può essere Doris Fletcher è solo una persona che sta facendo delle delle infezioni con le alcor le vampire molto più letali e pericolose biglietto di un suicida come si presenta bene questa cosa non riesco più a sopportare il dolore come se il mio corpo intero stesse andando in pezzi da quando quella beep mi ha infettato si stava parlando di Doris Fletcher è da giorni che si nasconde in camera sua da ordini con dei bigliettini e fa prove solo di notte ho assistito a una delle sue cosiddette prove cammina sul palco piena di rabbia e di odio sputando e lamentandosi della sua bellezza che sta svanendo la beep è infetta marcia fino al midollo e ha intenzione di far infettare tutti in questo posto e poi l'intera Londra il suo prossimo spettacolo non sarà prima di dicembre e per quel tempo tutti i dipendenti del teatro saranno suoi servi obbedienti costretti a lavorare alle sue macchinazioni diaboliche sono certo che abbia trovato un modo per contaminare il nostro cibo o l'acqua visto che abbiamo iniziato ad ammalarci e a trasformarci dopo il pranzo che ha organizzato per noi lunedì scorso voglio che chiunque trovi questa lettera sappia che ho deciso di suicidarmi solo per scappare da questo luogo che è diventato un vero e proprio inferno che Dio abbia pitare di me e della mia anima immortale dal momento che ho rifiutato di essere e complice di questa My Legend quindi ragazzi ufficiale il boss è Doris Fletcher dai piani bassi del teatro che sentiamo bene ogni stanza non lasciamo indietro niente e poi almeno proviamoci c'era qualcosa da vedere campione di sangue robusto molto bene qua si cade di sotto quindi io prima di lasciarmi cadere perché poi probabilmente possiamo anche tornare su e andrà a vedere in questa porta che ho lasciato indietro è la che sta recitando Doris Fletcher ragazzi ok giù si poteva tornare su comunque questa è una cosa buona da sapere ok non siamo soli qua dentro ogni volta andiamo sempre più vicino bello che ce la fanno sempre vedere sempre più vicino ogni volta di qua si scende però e là c'è un altro scale io andrò a vedere bene che cosa c'è di qui per non perderci niente scendiamo anche di qua chi è tu? chi è tu che è morto entra il mio mondo sono qui qui adorare o mi scendere io sono qui adorare un punto alla epidemia di vampiro Miss Fletcher ah ma Doris Fletcher non è più non è più Consumida da questa pezzi che ora lo sovrapposte. Tu senti anga per quello che succede a te. Ma io posso aiutare. Sono un dottore, Alice Fletcher. Doris Fletcher non è più. Tutti che resta sono i sogni della Queen che era. E la Queen che sarebbe. 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 L'avevo detto che era il bordo a rischiare sui ragazzi. Mi sembra immune. E la Queen che sarebbe. Lo so, psychic dramma. Lo so che venirebbe. E la Queen è di nuovo una volta tutti i suoi ragazzi. Pochi proiettivi eh. Tempo di sfoderare la nostra falce quindi. Ecco, ho preso. Ah, c'è la tua sciabola eccezionale, ragazzi. Perciò, salvare questa carcassata di mia. C'è il cuore il cuore un po' più rapido? C'è il cuore il cuore? Non, signora Fletcher. Il cuore il cuore il cuore. Ah! C'è bella? C'è bella e bella? Perciò, sì. Ah! C'è bella già! C'è bella. E' perciò perciò che hai dovuto essere distruttato. Ma che hai detto proprio... Che io non veni qui per te uccidere, sì. Ma ho capito che il cuore il cuore che hai dovuto essere fermato. C'è bella? C'è bella? C'è bella. C'è bella. C'è bella. C'è bella, Doris Fletcher. ecco Ma una volta che metto tutti i pezzi del puzzle insieme, sono sicuro che avremo un po' di chat, tu e io Stai fuori da me, McCollum, tu e tutti i tuoi uccidoni Questo non posso garantire, Dr. Reed, ma lascerò andare, per ora Allora ragazzi, facciamo il trofeo, morte in scena Io direi che ho registrato veramente abbastanza di quello che abbiamo visto in questo episodio Quindi ci curiamo con il nostro potere Che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate like Oppure iscrivetevi al canale per sapere quando metterò online una nuova parte di Vampire Mi sto guardando in giro prima che arrivi qualcuno dei soldati di McCollum Noi ci vediamo alla prossima, grazie a tutti di aver visto questo video e ciao ciao Grazie a tutti